La terza corsa premio Evansy, una prova per quattro anni, vincitori da 9 a 36.000 euro in carriera e il centrale trissa parte della giornata. All'1 Uauca René Legati, al 2 Uragano De Ledi, Roberto Vecchione, al 3 Unfaithful Model, Antonio Di Nardo, al 4 Unica GSO, Pietro Gubellini, al 5 Ulisse Griff, Gian Paolo Minucci, al 6 Ulisse Emeni, Enrico Bellei. Quest'ultimo chiude nel ruolo di favorito, quando mancano 150 metri allo stacco, ma è anche quello che si avvia con maggior prudenza. Allo stacco c'è un po' di lotta con all'interno Uragano De Ledi, all'esterno Unica GSO, poi più indietro si ritrae Ulisse Griff. Uragano sbaglia lungo la piegata, sbaglia anche Unica, problemi di intralcio per il numero 3 Unfaithful Model, una prima curva davvero da treggenda. La squalifica anche per il numero 5 Ulisse Griff, di fatto rimangono in 2 dopo 400 metri. Ulisse Emeni in 29,6 va all'attacco ora di Uauka, che era quella che era rimasta davanti, quindi Ulisse Emeni su Uauka, più indietro ancora gli altri capeggiati da Unfaithful Model, che però dovrebbe essere squalificato 43,8, il passaggio ai 600 con sempre al comando Ulisse Emeni nei confronti di Uauka. Unfaithful che prosegue un minuto spaccato per gli 800 metri, si va quindi da 1,15 con il terzetto rimasto in piedi, che va adesso a completare il chilometro che Ulisse Emeni percorre nell'ordine dell'1,16. Si va così agli ultimi 500 di corsa, Ulisse ha la comando, Uauka che lo fila da vicino e ora sposta per cercare di metterlo in difficoltà lungo la piegata. I tre quarti di miglio in 1,29 e mezzo con Uauka che va all'attacco di Ulisse Emeni che però reagisce e scurva ancora al comando. Dietro a Unfaithful Model Ulisse Emeni che è al momento in controllo su Uauka e Unfaithful che prova a fare comunque lo spunto al centropista. Ulisse Emeni che si allunga nel tratto conclusivo. Ulisse Emeni che viene a concludere mentre per il secondo Uauka tiene comunque a bada il numero 3 di Unfaithful Model. Io ho 1,59 spaccato sul cronometro che significa 1,14,4 forse qualche linea meno considerati i primi 40 metri. Ma la vittoria per Ulisse Emeni che è comunque netta al di là delle proporzioni senza girare mai il frustino Enrico Bellei viene a concludere nei confronti di ancora Uauka e poi ancora al numero 3 Unfaithful Model. Questo l'ordine arrivo provvisorio salvo ovviamente verifica la giuria. Grazie a tutti.